Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella mattina dopo di Juventus-Milan. Ragazzi, ancora non ci sto credendo, cosa è successo ieri sera? Ragazzi, Juventus 0-Milan 3. Partita sontuosa da parte dei ragazzi. Cioè, veramente l'unica pecca, l'unico neo se volete proprio prendere, è stato l'errore di Chessy dal dischetto sull'1-0 per noi. Pallone molto pesante, quindi niente, Chessy, errore di Chessy, parata di Scesni. E poi si è riusciti comunque, nonostante tutto, a chiudere la partita, anzi a blindarla a casa loro. I ragazzi che hanno fatto il miracolo nel miracolo, ovvero siamo andati a vincere allo Stadium. Prima vittoria allo Stadium, da quando la Juve lo utilizza come stadio di casa, sostanzialmente. E che dire poi, una vittoria che ovviamente è inutile dire, è di un'importanza, ragazzi, clamorosa. Clamorosa? Tutti ci speravamo, ok? Però, lo sapete, eravamo tutti un po' sul sì, no, speriamo, però, boh, non lo so, è sempre la Juve, eccetera, eccetera. Io, ragazzi, la mia paura più grande era che, come all'andata, la Juve facesse, come al solito, quest'anno, un gioco un po' così, così. Ma contro di noi, invece, si svegliasse, tipo, all'andata, Chiesa ha fatto il fenomeno. Ragazzi, ieri sera non si è visto nessuno, complice anche magari Andrea Pirlo, che come allenatore, ragazzi, subito alla Juventus, malissimo. Ma Juventus ieri senza personalità, senza nessuno spunto. Cioè, ragazzi, a me ieri sera hanno fatto impazzire Kier e Tomori. Kier e Tomori, vabbè, tralasciando il gol di Tomori, bravissimo. Ma, in generale, Kier e Tomori, ma prendiamo tutta la difesa, anche Calabria e Teo Hernandez, ieri sera tutti da 8-9. Cioè, nel senso, Kier e Tomori, su qualsiasi pallone, loro c'erano palle alte, palle basse, anticipi, marcature. Cioè, ragazzi, fuori di testa, Cristiano Ronaldo, poi, cioè, ma quando è alla Juve, da quando ci sono sempre stati Milan e Juventus, puntava Calabria e faceva quello che voleva. Ieri sera, ragazzi, Ronaldo ha provato a puntare Calabria, è volato al bar Ronaldo. Calabria, ieri sera, ha chiuso tutto, anche lui, da Dio. Mentre Teo, meglio delle altre, delle, di queste, delle ultime uscite, contro, contro Benevento, eccetera, eccetera. Meglio, però, non è ancora quel Teo, però, bene anche lui ieri, benissimo anche lui. Poi, fase centrocampo, che sì, Ben Nasserro, che sì, ha aiutato tantissimo ieri, che sì, era ovunque, ovunque era, che sì, veramente. Ben Nasserro, invece, ha fatto il suo anche in fase offensiva, nel senso che ha gestito bene alcune fasi e si è proposto anche in fase offensiva, quindi ha aiutato a creare l'azione, che è quello che dovrebbe fare, mentre che Siri ha avuto un po' più un ruolo di contenimento barra di aiuto. Ecco, ha aiutato tanto i suoi compagni, lo vedevano spesso che si muoveva destra e sinistra, in centro, molto bravo. Poi, lì davanti, ragazzi, Cialanoglu, bene la palla per il 3-0, poi per il resto, ok, cioè, che abbia i piedi non è una sorpresa. Il problema è che, se proprio si vuol mettere, ieri sera Ciala è stato quello che è un po'... Non dico il peggior perché ieri sera assolutamente non si può parlare di peggiori in campo, ragazzi, però è quello che ha preso un voto minore, a parer mio, rispetto a tutti. Perché, ok, il suo compitino l'ha fatto, però sono sempre pareri miei, ragazzi. Non è che mi abbia convinto, come al solito, più di tanto. Quindi, vabbè, vediamo in queste ultime partite. Poi, vabbè, ottimo Pioli con la sorpresa Brian Diaz e si è visto. Appena ho visto Brian Diaz titolare ho avuto un attimo di dubbi, però, anche lì, pensandoci ho detto, magari piccolino e agile può mettere in confusione, può mettere in difficoltà Chiellini-Delict, qui sono due metri e mezzo ciascuno. Effettivamente è stato così. Bravissimo Brian Diaz, ha fatto la miglior partita da quando è al Milan, a parer mio. Ha messo in difficoltà tanto la difesa, grandissimo il gol dell'1-0, ragazzi, ha fatto un gol pazzesco. E... Poi per gli altri, che dire, vabbè, c'è la Noglu, ho detto, sale Makers. Mi è piaciuto, mi è piaciuto il buon Salamandra, tanta roba pure lui ieri. E lì davanti il buon Zeta, con la sua carica, ha aiutato tanto. E poi tanta roba perché si è preso tante di quelle mazzate. Infatti adesso si è fatto male al ginocchio, vediamo, incrociare le dita. Più che altro perché, ragazzi, c'è poco da dire. Vinciamo con Torino e Cagliari e siamo in Champions League. Perché anche se dovessimo arrivare all'ultima giornata, con noi che vinciamo tutte le due le partite, che siamo contro l'Atalanta nell'ultima giornata, e ci arriva anche la Juve alla distanza di tre punti. Magari noi con l'Atalanta perdiamo, loro vincono, quindi andiamo a pari punti. Passiamo davanti noi per scontri diretti. Quindi, quindi, eh, eh. Diciamo che Torino-Cagliari, ragazzi, potrebbero regalarci una gioia che manca da tanto. E speriamo veramente che sia così. Niente, queste qua erano le mie impressioni di ieri sera. Vorrei sapere le vostre. Vorrei sapere se state ancora godendo, ma penso proprio di sì. Vi ricordo di mettere un mi piace al video, ragazzi, di iscrivervi al canale qua su YouTube, se ancora non aveste fatto, sia il canale di Milan Inside, sul quale uscirà, e anche sul mio nuovo canale, Tom1899. In più vi chiedo di venirci a seguire su Twitch di Milan Inside, perché tutte le reaction del Milan le faremo lì, e adesso che comunque sta finendo la stagione, poi finita la stagione faremo altre live, quindi in vista da prossima stagione, del mercato, chi manderemo via, il probabile prossimo formazione, eccetera, eccetera. Quindi vi aspettiamo su Twitch, mi raccomando, link in descrizione. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, ragazzi, e niente, sempre Forza Milan!